Non si può chiamare viaggio, avventura, piuttosto una strada molto capire. Le lacrime abbiamo salutato il papà di Nicola alla frontiera e poi siamo partite. Abbiamo visto nelle dogane quanto i bambini e i mole salutavano proprio, i uomini dovevano tornare a casa e loro proseguire. Non augurano nessuno tutto ciò che sta succedendo ora. Ci sono tante donne che parturiscono nel sotterraneo, sopra il pavimento, nudo, senza nessuna coperta. I bambini nascono e non hanno neanche una coperta per avvolgerle. Oggi sono ospiti presso una loro parente, Tatiana, che vive da anni ad Arezzo, lei là ha ancora suo fratello. Io ho scoppiato i lacrime, due giorni non potevo né parlare niente né mangiare, piangevo, tutto continuo a piangere. Da quando sono arrivati loro mi sono ripresa un po', però ogni tanto basta solo un pensiero che ora mio fratello sta portando la mia nipotina piccola e la mia cognata nella macchina verso Moldova per arrivare poi a Polonia e io scopio più lacrime perché tutti i giorni sto a telefono. L'accoglienza ricevuta in Italia ci raccontano scalda il cuore, ma la guerra deve finire e noi vogliamo tornare a casa nostra. Carissime donne che questa ora sono in Ucraina, tantissimi auguri, vi auguro tanta tanta forza che ci sono i ragazzi, tantissimi auguri e i bravi, tanto i ragazzi, tantissimi auguri a tutti i ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.